Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, lo abbiamo visto, la patch 8.0.1 è già uscita e con essa la nuova mappa del tesoro. E quindi ragazzi, sbrong! Eccola qua, eccola qua, tesoro sepolto. Come vedete, oggetto leggendario si presenta in questo modo ragazzi, è proprio una mappa. Se noi la raccogliamo, come vedete, finisce nel nostro inventario. Ma quindi la domanda è, come cavolo funziona questa mappa del tesoro? Noi la prendiamo e dobbiamo guardare in giro. Non l'avete sentito? No, non l'avete sentito, aspettate eh. Aspettate che vi metto l'audio di gioco. Noi la prendiamo. Vedete, ci sono delle righe a terra che ci indicano la direzione dove andare. E se guardiamola avanti, ad esempio, c'è qualcosa che brilla. Teniamola in mano, seguiamo il fascio di luce rosso e vediamo un pochettino che cosa troviamo. Anche io ragazzi, è la prima volta che scavo. Voglio troppo vederlo e lo volevo fare insieme a voi. Guardiamo un po', guardate, guardate. Questo fascio di luce appare solo se teniamo in mano la mappa. E ragazzi, appena la tiriamo via, sparisce. Questo indica molto probabilmente il punto di un tesoro nascosto. Mi ricordo che bisognasse prendere il piccone, credo. No. Ah, guarda, c'è una X. Oh, porca va. Che figata. Che figata. Apriamolo. Porca, porca. Guardate che cosa c'è nel tesoro, raga. Ci ha dato uno scar leggendario, un P90 leggendario e una Chug che è leggendaria. Beh, ragazzi, direi assolutamente GG. Se vi piace la mappa del tesoro, mi raccomando, lasciate un bel like. Iscrivetevi tantissimi al canale. Noi ci vediamo alle 13 in live. OUURR! Ha, ha. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.